Musica Le 20 e 30, una manciata ai secondi, benvenuti al TG2000. Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386, ieri erano stati 289 in più, secondo i dati del Ministero della Salute. Ma se i malati aumentano, diminuiscono i decessi. Le vittime oggi sono tre, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Sentiamo Pierluigi Vito. Non c'è ancora una fase post-covid, siamo sempre nel pieno della prima ondata. Siamo stati bravi, ma non è finita. A dirle Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute, e i dati di oggi lo confermano. A fronte di soli tre decessi, ammontano 386 i nuovi casi di coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a superare quota 247 mila. Un picco che non si registrava da quasi due mesi e che spinge a non abbassare la guardia. Secondo una ricerca dell'Università Cattolica, quattro italiani su dieci hanno difficoltà ad adeguare le proprie abitudini alle precauzioni imposte dalla convivenza con il Covid-19. Un disagio sentito maggiormente dagli uomini, specie tra i 18 e 34 anni, residenti al sud e nelle isole, e con un reddito di livello medio. E tra i laureati si trova in difficoltà praticamente una persona su due. I dati odierni danno anche speranza, evidenziando come sensibilmente calino le infezioni in corso e aumentino i guariti. Ma attenzione, uno studio sperimentale, promosso dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia, mostra come più di un paziente su tre guarito dal coronavirus presenti ancora problemi fisici, soprattutto polmonari, anche a mesi di distanza dal decorso dell'infezione. Occorre tenere alta l'attenzione anche sull'emergere di nuovi focolai che si aggiungono a quelli già attivi. In un centro di accoglienza per migranti di Treviso è emersa la positività di 129 osfiti su 315, tutti asintomatici. Sono stati immediatamente isolati all'interno della struttura e la quarantena è stata estesa anche ai negativi. Quarantena pure per 90 persone che hanno partecipato a un matrimonio a Nicosia in provincia di Enna. L'allarme è scattato dopo che una donna è risultata positiva. Si stanno accertando tutti i contatti che i partecipanti alle nozze hanno avuto da sabato 26 luglio. Questa la situazione e tra alti e bassi il virus non scompare. L'Italia si è distinta per la fase di emergenza e ora bisogna fare il possibile per evitare una pericolosa ricaduta. La parola dunque al virologo con Luigi Ferraiolo. Rimbalzano i contagi per il coronavirus, risalgono nettamente rispetto ai giorni scorsi e la paura si diffonde di nuovo. Le aspettative sbagliate di chi pensava che il virus fosse mutato perdendo potenza ed efficacia vanno in fumo. Nonostante, e meno male, siano diminuiti di molto i ricoveri. Non c'è stato affatto un cambiamento dei sintomi nei casi appunto che hanno richiesto il ricovero ospedaliero dal momento che prevale ancora il coinvolgimento respiratorio con la polmonite e nelle forme più gravi l'insufficienza respiratoria stessa. Ma se i ricoveri sono diminuiti e il coronavirus è sempre uguale, cosa ci riserverà il prossimo mese di agosto? Siamo stati finora il paese più concreti in Europa nell'aver affrontato l'emergenza, come più volte spiegato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma questo purtroppo non impedisce una ricaduta. Per quel che attiene la situazione italiana, in questo particolare momento dell'estate, è sicuramente migliore di quella di altri paesi europei a noi vicini. Però, proprio perché si caratterizza per la comparsa di focolai, in parte autottoni, in parte di importazione, è importante che questi focolai vengano prontamente identificati e bloccati in modo tale che si impedisca lo sviluppo di un grande incendio che potrebbe coinvolgere, come è avvenuto in alcuni paesi europei, un'area piuttosto vasta e un numero significativo di persone. All'emergenza sanitaria si affianca quella economica, colpendo il mondo del lavoro con migliaia di persone disoccupate e questo porta all'incubo povertà. Oltre 2 milioni di famiglie entrate in crisi in questi ultimi mesi, definiti veri e propri acrobati. Barbara Masulli. Già nei dati sul monitoraggio che abbiamo fatto durante il periodo del lockdown, avevamo visto come nel 95% delle Caritas contattate, le persone che avevano difficoltà, che si erano rivolte alla Caritas, erano prive di lavoro o con un lavoro scaduto, o con un lavoro nero o sommerso. Il quadro preoccupante dipinto dalla Caritas è lo stesso delineato dal Censis, che nell'ultimo focus elaborato per Conf Cooperative, sostiene che a causa della pandemia nel nostro paese ci siano altre 2,1 milioni di famiglie sull'orlo della povertà e la metà di queste vive esclusivamente di lavoro in nero. Dall'indagine emerge che i lavoratori irregolari sono 3,3 milioni, mentre sono 2,9 milioni cosiddetti working poor, ossia coloro che in era pre-covid a malapena arrivavano alla fine del mese e che ora sono stati messi definitivamente K.O. dall'emergenza sanitaria. Sempre secondo l'indagine, 15 italiani su 100 hanno subito una riduzione della propria disponibilità economica del 50%, mentre per 18 su 100 la contrazione è compresa fra il 25 e il 50% del reddito. La metà della popolazione inoltre teme che tutto ciò possa trasformarsi in odio sociale e rabbia. A rischio disoccupazione ci sono 830 mila lavoratori che hanno in media un reddito mensile di 900 euro ed è proprio il tasso di disoccupazione che, dice l'Istat, a giugno è schizzato all'8,8%, ma solo perché è intervenuta la cassa integrazione, altrimenti sarebbe stato molto più alto. Per l'Istituto di Statistica, da febbraio a oggi sono andati perduti 600 mila posti di lavoro e negli stessi cinque mesi sono aumentati di 700 mila unità gli inattivi, ossia chi un lavoro non ce l'ha e neanche lo cerca e i più penalizzati sono sempre loro, giovani e donne. Fondamentale dunque in questo quadro è proprio l'aiuto ai poveri e alle famiglie in stato di necessità. Allora è rivolta infatti l'opera di tante realtà sui territori. Con Beatrice Bossi andiamo all'emporio Caritas di Spinaceto, alle porte di Roma Sud. Vediamo. Allo sportello dell'emporio della Caritas, Daniela chiede beni di prima necessità. Vive con la pensione del marito, Paolo, che l'aspetta poco lontano, con le buste in mano. Con le spese che abbiamo, con i debiti che abbiamo, non arriviamo a fine mese e fatichiamo in realtà. Allora ci hanno invitato a venire qui e se non ci fosse questo, che ci aiuta a mangiare, non potremmo nemmeno tanto mangiare. Il parcheggio dell'emporio è pieno anche oggi, che il caldo non dà tregua. Siamo in un angolo della periferia di Roma, dove viene distribuito cibo a chi ne ha più bisogno. Cagli in scatola vuole? No. No, no. Cagli in vegetale? No, grazie. Dopo la pandemia è diventato obbligatorio prendere appuntamento e il numero di chi chiede aiuto è più che raddoppiato. La pandemia ci ha rovinato, però diciamo andiamo avanti. Andiamo avanti con il più possibile e si spera naturalmente che sta pandemia termina veramente, perché con lei c'è la mascherina, io no. Intanto Daniela ha riempito le buste ed è il momento di caricare la macchina. La solidarietà li farà stare tranquilli, almeno per un mese. Ed è sempre grave la situazione sanitaria che troviamo nel resto del mondo, in Spagna, ad esempio, dove c'è l'uso obbligatorio della mascherina, mentre negli Stati Uniti il doloroso primato nella giornata di mercoledì di un morto al minuto per coronavirus. Vediamo. Diamo numeri che andrebbero immediatamente aggiornati, d'altronde in certi posti si arriva alla media di un morto al minuto. Parliamo degli Stati Uniti, in cui il virus macina numeri e persone. Finora quasi 4 milioni e mezzo di casi e più di 150 mila morti. Con l'economia che tracolla, PIL a meno 32,9%, roba che non si vedeva dalla Grande Depressione del 1929. Ma anche in Europa il sistema economico finanziario trema dopo il crollo del PIL della Germania, meno 10%. Le borse hanno reagito male, con Francoforte che ha perso il 3,52%, Londra il 2,26% e Parigi il 2,13%. Male anche Milano, meno 3,28%. E il persistere di vari focolai preoccupa. Spagna ancora sotto pressione, con Madrid che rende obbligatoria la mascherina nei luoghi pubblici, mentre sono sotto osservazione le località balneari, dove è maggiore il rischio di affollamento. Altro focolaio attivo in Romania, con più di 1.000 contagi al giorno. 5.000 ai nuovi casi quotidiani in Perù, che ha superato la soglia dei 400.000 totali e oltre 18.000 morti. Numeri sconfortanti per un paese alle prese con forti disuguaglianze. Un po' come il Brasile, che però è molto più grande e conta ormai più di 2 milioni e mezzo di contagi e oltre 90.000 morti. Eppure Bolsonaro ha deciso di riaprire i voli da e per il paese, sordo agli appelli che gli arrivano da scienziati, medici e 152 vescovi, che in una lettera lo accusano di fallimento e chiedono un cambio di rotta. La vicenda Open Arms e Salvini, via libera del Senato al processo all'ex ministro dell'Interno per la vicenda della nave della ONG bloccata in mare per 19 giorni nell'agosto 2019. Ma la politica oggi anticipa anche le misure d'agosto. Sentiamo Augusto Cantelmi. Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della giunta delle elezioni. 149 a 141 per soli 8 voti. Il Senato dice sì al processo nei confronti di Matteo Salvini per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio in riferimento al caso della nave Open Arms bloccata per 19 giorni lo scorso agosto con 151 migranti a bordo. No, ma non tiro in ballo altri. È l'unico caso di ipotetico sequestro di persona in cui l'ipotetico sequestrato aveva tre vie di uscita per scappare dal sequestro e le ha rifiutate tutte e tre. Ma la fine ha capito perché lo mandano al processo? Qual è il motivo? Perché mi chiamo Matteo Salvini. Però va bene, dai. Per il sì al processo si sono pronunciate tutte le forze di maggioranza Italia Viva compresa. E io rispondo dicendo che per me l'interesse costituzionale tutelato o il preeminente interesse pubblico in questa vicenda non c'è. Per le opposizioni invece si tratta di una brutta pagina di storia parlamentare. Salvini anche oggi dice io non ho paura del processo. Lo dirà sempre e l'ha detto prima. Governo invece ha lavoro per il decreto agosto da 25 miliardi di euro tra le misure possibili altre 18 settimane di cassa integrazione ma selettiva in base ai fatturati stop ai licenziamenti ma non per tutti fino al 31 dicembre e poi sei mesi di contributi per chi assume a tempo indeterminato e bonus per operatori del settore turismo e spettacolo. L'emergenza migranti continuano gli sbarchi in Sicilia e le ricerche in mare. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore tunisino per esprimere preoccupazione per l'incremento delle partenze verso l'Italia. Maurizio Dischino. 63 migranti sono arrivati oggi a Lampedusa. 54 sono approdati direttamente con 4 diverse imbarcazioni. 9 invece sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza mentre navigavano su un barchino a largo dell'isola siciliana. Altre 64 persone sono arrivate oggi con una barca a vela sulla costa ionica calabrese alla periferia di Ferruzzano Marina. Risultano invece ancora dispersi 24 migranti naufragati ieri nei pressi delle coste tunisine di Mahdia, ha denunciato oggi Alarm Fon ricordando che una persona è stata salvata dopo aver trascorso 4 giorni in mare. Secondo l'organizzazione è il terzo naufragio in Tunisia in questa settimana. Alarm Fon ha anche denunciato che non ci sono più notizie di altri 17 migranti in pericolo nel Mediterraneo da due giorni. In Italia navi militari oggi hanno trasferito a Pozzallo e in altre località 277 migranti arrivati a Lampedusa. Trasferimenti in giornata per 320 migranti da Porto Empedocle verso diverse strutture in Italia. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio oggi ha convocato l'ambasciatore tunisino a Roma per esprimere preoccupazione sull'incremento delle partenze di migranti dalla Tunisia verso l'Italia. Tunisia ha assicurato massima attenzione ed ha già disposto più pattugliatori nella zona costiera di Sfax la più battuta dai trafficanti di esseri umani. A poco più di un anno e sette mesi dei tragici fatti di Corinaldo oggi ad Ancona è arrivato il primo verdetto per la strage. Colpevoli tutti e sei i membri della banda dello Spray che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 causarono la morte di cinque minorenni e una madre di 39 anni. Clara Iatosti Le vittime della strage di Corinaldo attendono ancora giustizia. Oggi pomeriggio con sconti di un terzo di pena per il reto abbreviato i sei giovani che innescarono la tragedia sono stati condannati a 10 e 12 anni. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra la banda utilizzò uno spray al peperoncino per rubare più facilmente collanine e portafogli. Nella calca provocata dal fuggifuggi generale cinque minorenni ed una mamma di Senigallia furono travolti dal cedimento di una balaustra fuori dall'uscita di sicurezza numero 3. Morirono Asia Nasoni Benedetta Vitali Daniele Pongetti Emma Fabini Mattia Orlandi e la 39enne Eleonora Girolimini. Non c'è pena adeguata afferma oggi il marito di quest'ultima Paolo Curi i miei quattro figli non hanno più la madre cinque famiglie piangono i loro ragazzi i giudici hanno riconosciuto l'omicidio preterintenzionale non l'associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine per cui i pubblici ministeri avevano chiesto pene dai 16 ai 18 anni di carcere Ugo Di Porto Raffaele Mormone Badra Mujà Andrea Cavallari Moet Sacari e sua Iba Adada la banda dello spray continua a non ritenersi responsabile della strage il pubblico tutti i giovanissimi attendevano quella sera l'arrivo di un noto cantante trapper ed erano tanti troppi all'interno del locale altri 17 gli indagati in questa vicenda a partire dai gestori del locale e chi ha consentito loro un'attività priva di alcuni permessi si parla di oltre 6.000 biglietti stampati per quella serata maledetta a fronte di una capienza della discoteca decisamente inferiore dolore, ricordo e verità piena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riassume con queste tre parole il senso della sua presenza a Bologna nell'anniversario della strage di Bologna occasione per soffermarsi anche sulla strage di Usti che entrambe avvennero 40 anni fa Federico Plotti ci sono poche parole a poter pronunciare e sono dolore ricordo verità il dolore per le vittime le 10 e 25 del 2 agosto del 1980 una bomba esplode nella sala d'attesa della stazione di Bologna fu una carnificina 85 le vittime 200 i feriti il più grave attentato terroristico avvenuto nel nostro paese e ancora in parte avvolto nel mistero come esecutori materiali furono individuati dalla magistratura alcuni militanti di destra appartenenti ai nuclei armati rivoluzionari ma i mandanti di quella strage restano ancora sconosciuti oggi il Presidente della Repubblica era proprio a Bologna in ricordo di quanto accadde 40 anni fa Mattarella il secondo presidente dopo Sandro Pertini a recarsi nel capoluogo emiliano per le commemorazioni della strage una visita iniziata con l'incontro con l'arcivescovo di Bologna il cardinale Matteo Maria Zuppi e con la messa nella cattedrale di San Pietro Mattarella dopo aver incontrato i familiari delle vittime della strage si è recato al museo per la memoria di un'altra tragedia tutta italiana avvenuta poco più di un mese prima quella dell'aereo Itavia abbattuto nei cieli di Ustica il 27 giugno sempre del 1980 con 81 persone a bordo un museo dove sono conservati tutti i resti dell'aereo recuperati in mare un tempio della memoria che consente di mantenere intatto il vivo ricordo di una tragedia ancora senza colpevole ha detto Mattarella chiedendo ogni sforzo possibile per arrivare finalmente a una verità definitiva anche a 40 anni di distanza e anche in questo caso attesa da tempo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Comandante Generale dell'Arba dei Carabinieri Giovanni Nistri riservo sui temi dell'incontro durante il quale secondo fonti di agenzia il Presidente Mattarella ha ribadito stima e fiducia nell'Arba dei Carabinieri provata dalla vicenda della Caserma Levante di Piacenza e un rinnovato impegno contro la tratta per l'eradicazione totale di questa piaga chiederlo nella giornata mondiale contro la tratta di esseri umani che si celebra oggi è Papa Francesco sentiamo Cristiana Caricato Papa Francesco molte le ha incontrate guardate negli occhi accarezzate con tenerezza le vittime della tratta sono nel mondo 40 milioni una ferita nel corpo dell'umanità contemporanea scritto oggi nel tweet il pontefice nel giorno in cui si riflette a livello mondiale su quella che è una delle piaghe più abominevoli forma di schiavitù del terzo millennio un crimine per il Papa che più volte si è scagliato contro la mercificazione delle persone e che pur ringraziando tutti coloro che operano in favore delle vittime denuncia un fenomeno tutt'altro che in diminuzione complice il lockdown e i dati sulla tratta degli esseri umani peggiorano a farne le spese soprattutto le donne e non solo quelle adulte alto anche il numero dei minori finiti nelle mani dei nuovi schiavisti almeno il 30% in maggioranza bambine destinate al mercato del sesso i dati registrano proprio nello sfruttamento sessuale le percentuali più alte tra le vittime segue lo sfruttamento lavorativo in gran parte nel terziario e nel settore agricolo proporzioni che si ripetono anche in Italia delle 2033 persone strappate dal traffico di esseri umani l'86% sono donne e il 7,9% minori numeri largamente sottostimati per la grande quantità di sommerso un fenomeno drammatico su cui non bisogna abbassare la guardia come ripetono associazioni e organismi internazionali e che impone una presa di coscienza di tutti quei comportamenti sociali che alimentano la domanda di sfruttamento al via da oggi l'Eco Film Fest promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo rivista del cinematografo e Confindustria di Lecco e Sondrio fino al 2 agosto 4 giorni di proiezioni dibattiti presentazioni di libri e momenti di riflessione sul tema della condizione femminile ce ne parla Francesco Durante personaggi di spicco del cinema e dello spettacolo della musica del giornalismo e delle istituzioni per scoprire storie e modelli di donne che superano gli stereotipi la prima edizione dell'Eco Film Fest propone uno sguardo tutto al femminile sulla cultura e sulla società attraverso il filtro della settima arte donne oltre gli schemi ma anche oltre gli schermi naturalmente quelli del cinema è stato bello vedere il concerto delle istituzioni degli imprenditori dei sostenitori dei volontari che sono la vera anima di questo festival radicato sul territorio ma con uno sguardo al mondo intero con uno sguardo al paese e con un'attenzione particolare alle donne abbiamo cominciato questo territorio ha bisogno di ripartire è stato colpito duramente l'Eco e il suo circondario dall'emergenza Covid ma la voglia della gente di stare insieme di confrontarsi di immaginare il futuro è la vera chiave della ripartenza prima ancora dell'economia dopo la cerimonia inaugurale e la tavola rotonda di questa mattina il Lecco Film Fest è proseguito nel pomeriggio con un talk dal titolo Fatti Bella Per Te come l'omonimo brano della cantotrice Paola Turci protagonista dell'incontro ogni sera fino a domenica verrà presentato e proiettato un film con la partecipazione di registe e di attrici apre la rassegna Piccole Donne di Greta Gerwig e per oggi è tutto grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata arrivederci